Ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lele King TV Dopo aver aperto il Team Box, dopo aver attaccato tutte le figurine più amate Adesso andiamo ad attaccare sull'album tutte le figurine del calcio mercato Iniziando dalla M1 fino alla M40 Quindi mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanella Lasciate subito un bel like a questo video Scrivete sotto nei commenti la vostra figurina preferita Fra quelle che vedrete in questo video logicamente E seguitemi sugli altri social, Instagram e TikTok Se vi fa piacere, a me mi fa piacere se mi seguite Quindi se vi fa piacere anche a voi potete seguirmi anche su questi altri social Ma principalmente ragazzi iscrivetevi al canale Visto che molti di voi si guardano i video ma ancora non sono iscritti al canale Non ho capito per quale motivo, cioè se ti guardi i video Perché non dovresti iscriverti al canale? Anche perché poi escono video nuovi, video fighi e te li perdi Ok, detto questo ragazzi iniziamo con Bucacon M1 Ecco qua Bucca Che poi secondo me qual è stato il più grande colpo di questo calciomercato? M2 intanto Secondo me Bucca Ragazzi potrebbe essere uno dei più grandi colpi di questo calciomercato Anche se poi forse è quasi scontato che Vlauic Sicuramente sia il più grande colpo Anche a livello di money, di soldi Insomma che sono stati spesi per portarlo alla Juventus dalla Fiorentina Però anche Bucca ragazzi è un grande acquisto secondo me da parte dell'Atalanta L'Ivoriano secondo me è tanta roba L'M4 L'M5 GOLDANIGA Poi abbiamo M6 L'Ovato M7 Del Cagliari Baselli Dopo ci facciamo una top 3 dei migliori acquisti secondo me del calciomercato Facciamo così Parisi Attaccate tutte le figurine del calciomercato di gennaio Di riparazione M9 VR Benassi con M10 Poi abbiamo M11 che è Piontech della Fiorentina Il suo ritorno in Italia dopo la parentesi al Genoa e al Milan Dove non ha riscosso un grande successo M12 Poi da giocare se non sbaglio in Germania Piontech Adesso il suo ritorno alla Fiorentina del pistolero Per la sua esultanza M13 Cabral Poi abbiamo M14 che è l'allenatore Blessin Piontech Comunque sta facendo un ottimo campionato Cioè non sta cambiando allenatore Tutto spiano M15 Amiri M16 M16 M17 De Paoli M18 Gosens M19 E Caicedo M20 Eccolo qui Vlaovic Con la maglia della Juventus Quello che sicuramente sarà più votato da voi Come migliore figurina per quanto riguarda Gli acquisti di questo mercato di gennaio M21 che è il Zaccaria Anche lui è in buon acquisto Devo dire Zaccaria che è stato accostato tantissimo In estate Ma anche a gennaio Alla Roma Poi è arrivata lì È arrivata la Juventus E se l'è portato via M22 Cabral Dei sbiatiti Crunich Com M23 Poi abbiamo L'Azetich Com M24 Che è un 2004 Ragazzi Ruchi Questa è interessante Sono anche molte ruchi in questi aggiornamenti M25 Tuanzebbi del Napoli Poi abbiamo Niles Della Roma Sergio Oliveira Della Roma Poi abbiamo A Fena Avendo acquistato Ci sono importanti Tipo Fazio E Verti Per l'appunto Poi abbiamo M21 Gianpaul Gianpaul Su ritorno alla Samp Andrea Conti M32 Rincon M33 Rincon M33 Abbiamo quasi finito Ragazzi Anche questo è un video abbastanza lungo Non mi aspettavo Sinceramente Poi abbiamo Giovinco Suo ritorno Dopo la parentesi In Canada Giovinco Ex giocatore Di Parma Juventus Nel nostro campionato Ecco Ricci Con M36 Adesso ritorno In Italia Con la Samp Pellegri Eccolo qui Con la M37 Poi abbiamo Cioffi Allenatore Nell'Udinese Poi abbiamo Mari Nell'Udinese Ancora E poi abbiamo Nani Nel Venezia Nel portoghese Che ha giocato Già nel nostro campionato Nel Lazio Allora Ragazzi La mia classifica Dei top 3 Acquisti Di questo calciomercato Vede Vlauic In testa Seguito Da Bogat E poi io direi Gosens Dell'Inter Questi sono Secondo me I migliori acquisti Per quanto riguarda Le ruchi Le ruchi più interessanti Che ci abbiamo Qui In questo In questo Aggiornamento Sono Quella Senza ombra di dubbio Senza ombra di dubbio Di Di Gianna Di Afena Gianna Della Roma Questo è molto interessante Perché può diventare Un giocatore Molto molto Forte Un classico 2003 Quella di Lazetice Ragazzi Direi Queste due Sono molto Interessanti Come ruchi Quindi forse Un terzo box Per mantenere Soltanto queste figurine Potrei prenderlo Perché Sono due ruchi Che secondo me Potrebbero In futuro Essere Delle ruchi Importanti E cercate In un tanto vi saluto Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti